La situazione è tornata ad essere critica, non siamo sui livelli della primavera scorsa ma contagi e ricoveri stanno aumentando. Non possiamo permetterci di essere superficiali né di sottovalutare questa nuova emergenza sanitaria. Comincia così il nuovo appello rivolto alla cittadinanza dal sindaco di Sondrio Marco Scaramellini, che per la prima volta dall'uscita dalla fase acuta della pandemia sente il bisogno di rilanciare un invito alla responsabilità e soprattutto a evitare quella che può essere un'insidia pericolosa, ovvero la sottovalutazione del rischio. Continuiamo a vivere la nostra vita, a studiare e lavorare, dice il sindaco, ma nel rispetto delle misure prescritte. Lo dobbiamo a noi stessi, alle nostre famiglie e all'intera comunità. Il momento insomma è delicato, tutti devono esserne consapevoli, ma tra la scorsa primavera e oggi c'è una differenza fondamentale che può costituire un'arma in più, fa capire il sindaco. A marzo non eravamo preparati e non potevamo immaginare quello che sarebbe successo. Oggi ne abbiamo piena consapevolezza, per questo l'impegno deve essere ancora più forte. Insomma, il nemico oggi è noto, proprio perché conosciamo le conseguenze di un'evoluzione negativa della situazione, prosegue il messaggio del primo cittadino, dobbiamo essere tutti vigili e prudenti, abbiamo una grande sfida davanti a noi e dobbiamo vincerla. Questi giorni, le prossime settimane e i mesi a venire saranno cruciali. Il sindaco, che richiama anche le nuove disposizioni stabilite dal governo, valide per i prossimi 30 giorni, si rivolge in particolare ai giovani affinché rispettino le nuove regole, si proteggano in maniera adeguata ed evitino situazioni rischiose che metterebbero in pericolo loro stessi e i familiari anziani o fragili. Con impegno e grande forza di volontà, conclude Scaramellini, riusciremo a superare questo momento difficile per tornare sereni alle nostre abitudini. Conto su di voi.